a tutt'ora e per torri scusatemi sono venuto qua perché ho saputo che voi mi avete voluto fortemente nel vostro ristorante vi ringrazio fortemente è venuto carnavacciolo e mi sono inventato dei piatti particolari volete sapere quali sono no sì allora partiamo con un primo spaghetto alle mongole lontane volete sapere come si fanno no si prendete quella cosa con il manico come si chiama la scomarga la padella la padella bravo la padella e non si crea la padella si mi è picciato fuoco no e ti fai solo un rush round non c'è niente e avete ragione allora scusatemi allora accendiamo il fuoco accendiamo il fuoco mettiamo la padella sopra e gira ma da po ma dentro che hai messo è che ci vogliamo mettere mettiamoci poco d'olio un altro poco tuoi no poi tagliamo quel coso bianco be 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 che cosa è una spezia no quale spezia è quella cosa bianca che ti puzzano le mani laglio bravo raggio laggio prendiamo la giocca la battaglia rove e be 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 o via packer no lo lo raduniamo no lo raduniamo e ce lo mettiamo dentro la padella ma nonna santa vettimentemente poi vengi ramona pò fai cose sottolo sulfitto no e ci mettiamo gli spaghetti dentro e se si bruciano e come dobbiamo fare e di mettere la pentola da parte no Allora, ci mettiamo la pentola, spaghetti Hai visto l'acqua? No E si bruciano stesse? Pentola, acqua, spaghetti Ha fatto bollire l'acqua? Ha pure bollire l'acqua? Assolutamente no E sta moscia E poi li versiamo tutti quanti la dì E la pentola che vuoi? Vuoi? Che zitta cosa? E com'è ma fa? Devi scolare gli spaghetti Allora scoliamo gli spaghetti Non so facendo questo Fai a te merda E no tu eh E poi li serviamo a tutti Scusi, vengono? Lontane Dove? Lì, a mare Non mi fa senso, hai fatto gli spaghetti? Più o meno No, più o meno, sono agli e voglia All'inizio fanno un tocco personale Agli, voglia e bebe Ma che lo so? Iiiia! Il mio regno per un cavallo Io so il Pablo Escobar Granina Il comandante della Columbia Fatti tu pure un Netflix Ti fai di putta Mamma da Sorry baby, scusatemi Prego, finito Eccomi qua Ah, sei venuto? Allora, facciamo una cosa Passiamo al mio piatto forte Cioè proprio il mio cavallo di battaglia Paparelli e quattro formaggi Paparelli e quattro formaggi No, no, proprio paparelli e quattro formaggi Paparelli Paparelli Ci prendiamo una paparella Gli e te? Si C'è la grissima E avevamo mangiato per 4-5 mesi quattro formaggi Noi ora, come ne sai? Il calmanino Noi ora, come ne sai? Il parmigiano leggiano Noi ora, come ne sai? Il corgonsole Il grano invecchiato 36 mesi E poi, all'ultimo giorno Dopo la finitura dell'ultimo giorno Ci portiamo a mangiare una bella pizza Noi ora E quattro formaggi E la paparelli ci mettono a fanguolo E la serviamo Cotta? No, 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 viva E stai a combinare l'aparello vivo Tutti i clienti del cuore Per tutto quello Che si fa a mangiare l'aparello? Eeeh Sì Sì Così esce la fonduta di formaggio Sì Bravo Vedo che mi stai incominciando a capire E a Michele mi fa paura